Non ci facciamo intimidire dalla loro repressione, ma rispondiamo con fermezza, con forza, come abbiamo sempre fatto da 22 anni a questa parte. I compagni e i compagni sono stati mai avvieno 57 mesi, Giorgio, Mario, tutti quanti i compagni hanno saputo che la nostra mobilitazione si sentono più forti, tutti noi che rivendichiamo le stesse imputazioni di contatto loro, le imputazioni pazurde, perché la nostra lotta è una lotta punita, è una lotta grande, è una lotta contro i loro repressioni, contro il loro propone, è una forza di malattie fino a un conto. Tutti quanti uniti in una lotta che dura da tanto tempo e che non finirà se non con la vittoria, alta la vittoria, sempre! E non dire una cosa, e signor Pazelli, che oggi ho detto in via che questo Manuel mi stacca il Movimento Notabile, deve il Movimento Notabile, consigliere il Mappaccio, il Movimento Notabile, non si sento a scusare il Mappaccio, come si sento a scusare il Mappaccio, il Movimento Notabile, è una volta che la nostra lotta, è una volta che la nostro gruppo, è una volta che il Mappaccio, il Movimento Notabile, non si arresta, continuo alla scusare! le potele che sostenono il maniere potate, sono le potele di Grito, quelle che sono state contestate con gli altri propri e che non vediamo qui, sono le potele di Grito. Una di queste è Mario, che va di Bussoleno, è il Barbiero, tutti lo conoscono e davanti al suo negozio sono partiti. Ma siamo partiti per tutte le persone che sono state arrestate oggi perché sono venuti in gol di Sudo e perché sono notali. Questa è l'unica accusa che Caselli ha saputo portare al movimento notale. Non è vero che non è un attacco al movimento notale, no? Giorgio oggi invece il 14 lo portavano via, aveva l'aria dell'uomo libero, aveva la sua generosità di sempre e il servizio di chi fa che il carcere non può chiudere. Ristrissi di giustizia sociale, la paternità vasta che ci ha reso giorgio caro a tutti quanti in questa valle, per cui anche Giorgio. Come Giorgio, come Mario, è una di noi, è una di questa valle che non si arrende e di questa valle sono figli, sono appartenenti tutti coloro che sono stati arrestati per noi, per la nostra libertà. Grazie.